Ciao, bentornati su MyFootballGersey. Oggi vedremo insieme un'altra maglia per i mondiali del Catarte 2022, la maglia di casa del Messico in edizione FAN. Dopo diversi anni il Messico avrà una divisa casalinga verde. La divisa messicana della Coppa del Mondo del 2018 era verde ed è allora la nazionale maggiore messicana non ha più indossato una divisa di questo colore. La caratteristica principale del design della maglia da casa del Messico 2022 è una sottile stampa grafica sulla parte superiore e sulle maniche, ispirato al dio del vento. Nella cultura messicana il dio del vento è patrono dei sacerdoti e inventore di calendari e libri. Occasionalmente è anche raffigurato con un singolo di morte e risurrezione. Una grafica è anche posta sul retro del colletto. Gli inserti in mesh sotto le braccia e la tecnologia anti umidità AeroReady assicurano il massimo comfort ai tifosi. Cosa ne dite? Secondo me è veramente una bella maglia, però con questo motivo davanti mi piace moltissimo. E nella mia personalissima classifica questa prende quattro stelle. Mi piace tanto peraltro il nuovo logo di Adidas che Adidas introdurrà con le maglie dei mondiali proprio in Qatar. Qui in alto vedete il prezzo che peraltro include le spese di spedizioni e su Main Jersey le spese di spedizione, voglio dire, i tempi di spedizione sono veramente molto veloci. La maglia è arrivata in meno di 20 giorni. In basso trovate tutte le indicazioni per ordinare la maglia e un link per ottenere un coupon da 5 dollari. Quindi il costo della maglia diminuisce ulteriormente. Ora vi lascio la parte in cui vedrete le misure, quindi continuate a guardare il video. Prima di farlo però mettete un like e iscrivetevi al canale per essere aggiornati sulle prossime recensioni. Per oggi è tutto, ciao! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione fan. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!